Epoca di splendore fu per il castello di Canicattì la prima metà del 600 in cui barone della città era il duca Giacomo Bonanno Colonna. Questi precursore dei tempi gettò le basi per il futuro sviluppo della città nella zona bassa pianeggiante favorendone il progresso come importante centro viario e commerciale. Ecco come viene descritto sul portale del comune di Canicattì il castello Bonanno ed ecco invece come si presenta oggi il sito che è uno dei simboli più belli della città. Spazzatura ovunque, degrado, mancata attenzione da parte dell'amministrazione e del Club Lions che anni fa ha fatto mettere una targhetta e poi basta. Nessun interesse, il massimo disinteresse per qualche resta dell'antica costruzione che non consente di tentare nemmeno una ideale ricostruzione. Probabilmente il castello viene costruito nel 1089 da Ruggero il Normanno e anche probabile che nel luogo dove Ruggero primo costruì il castello vi fosse prima un forte inizio arabo. Questa è la storia. L'attualità invece ci parla di un'amministrazione disattenta che non si preoccupa di valorizzare e rendere fruibile questo sito che come si vede chiaramente nelle immagini è completamente abbandonato a se stesso.